Anche se la situazione resta confusa, si apre uno spiraglio nella crisi in Ucraina. Dopo conferme smentite, circa un cessato del fuoco permanente nella regione di Donbass, Mosche e Kiev sembrano aver trovato un'intesa. O meglio, il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alle parti un piano di pace in sette punti. Le parti in causa, ha sottolineato il capo del Cremlino, devono assolutamente essere d'accordo sulle seguenti clausole. Primo, porre fine alle azioni militari nelle zone di Donetsk e Lugansk. Secondo, attuare il ritiro delle truppe ucraine dal sud-est del paese. E poi, via libera, l'esclusione dell'uso dell'aviazione contro i civili. Tre punti indicati dal Cremlino. In seguito alla telefonata con il presidente ucraino Poroshenko, anche l'apertura di corridoi umanitari per i rifugiati. Intanto, l'autoproclamata Repubblica di Donetsk si è dichiarata pronta a risolvere il conflitto con Kiev con mezzi politici. Solo nel caso i militari ucraini cessino il fuoco. Secondo Mosca, l'accordo finale sull'Ucraina potrebbe essere raggiunto il 5 settembre a Minsk, in Bielorussia, dove si riunirà nuovamente il gruppo di contatto sulla risoluzione del conflitto. Ora, dalle parole, si deve passare ai fatti. Grazie. 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 Grazie.